Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il nuovo a Florida torna al Mazzucchi per invertire il trend e dare quindi continuità di risultati. Il successo interno manca dallo scorso 18 dicembre contro la Vastese. L'avversario di turno è la Vigor Senigallia di mister Aldo Clementi. Prima dell'inizio della gara, il minuto di raccoglimento per la scomparsa di Carlo Tavecchio. Poi si comincia, e la prima delle due, a dare la scossa al match è la Vigor Senigallia con il traversone calibrato sulla testa di Pesaresi che devia. Giordani è reattivo e blocca sulla linea. Si fa rivedere la Vigor Senigallia con questa punizione di Pesaresi che testa ancora i riflessi di Giordani, bravo a disinnescare. Poi a cavallo dei due tempi, due azioni in fotocopia, sempre con lo stesso protagonista Sebastiani che entra in area dalla sinistra e calcia a botta sicura. Il suo tiro viene respinto sulla linea sia nella prima situazione che nella seconda quando il 99 riesce a trovarsi in area da posizione defilata ma favorevole, non riuscendo però a spedire il pallone in rete. E allora a far gol ci pensa la Vigor Senigallia con questo destro poderoso da distanza siderale di Derrico che sorprende Giordani. Il pallone bacia la parte interna del palo e si spegne in rete dalla parte opposta. Derrico che appena un minuto più tardi ci riprova ritrovandosi a tu per tu con Giordani, questa volta però l'estremo difensore del Nuova Florida, si riscatta. Ma dall'angolo susseguente arriva comunque il raddoppio degli ospiti. Il pallone balla pericolosamente in area e Buccaro, più lesto di tutti, spedisce ancora il pallone in rete. In realtà il Nuova Florida reagisce come grande traversone di Miola in area dove arriva Valentini, grande giocata del 17, nuovo entrato nella ripresa e destro mortifero alle spalle di Roberto. E' il gol che riapre la partita per il Nuova Florida che poi si lancia all'assalto della porta avversaria in un finale di totale arrembaggio. Qui ancora Vari lavora il pallone, altro traversone splendido di Miola perfetto per la testa di Muzzi che però incredibilmente spedisce sull'esterno della rete. Ma finisce così, il Nuova Florida perde ancora in casa mentre vince la Vigor Senigallia che così consolida il secondo posto.